Il sommozzatore lo incontro qui, a Lampedusa, a casa di un amico in comune. Nella stanza siamo solamente io e Iddu. Il sommozzatore è enorme. Esordisce dicendo, nessuna registrazione, io del 3 ottobre non parlo. Attraversa la stanza e si va a setta a tavola. Noi, qui, siamo abituati alla morte. Ce lo ripetono fin dal primo giorno di addestramento. In mare si muore, ed è vero. Fai un errore, muori. Sbagli un calcolo, muori. Pretendi troppo da te, muori. In mare la morte ci accompagna, sempre. Lui è nato nel profondo nord Italia, dove il mare è più un'astrazione che altro. Diventa sommozzatore per caso. Una possibilità di lavoro che gli offrono dopo il servizio militare, ci arunano, Iddu sapiglia. Si trova a Lampedusa in qualità di rescue swimmer, la figura professionale che calza la muta arancione e durante le operazioni di soccorso, se qualcuno cade in mare, si lancia nelle onde per soccorrerlo. Segue un allenamento specifico per svolgere al meglio questo incarico. Già, l'allenamento, l'addestramento. Mi spiega che durante il corso è stato il momento più devastante della sua vita. Settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, ora dopo ora, faceva male tutto il corpo. D'un tratto il suo racconto muta, perché mi inizia a spiegare la misteriosa bellezza delle immersioni. Quando il mare è così profondo che la luce del sole non filtra più, e attorno è tutto scuro, tutto quieto. C'è una pace bellissima, mi dice. Sembra di stare nella mia montagna. Lui non è di sinistra, anzi tutto l'opposto. La sua famiglia, prima monarchica, divenne fascista. E lui si sente vicino a queste idee. Noi, qui, salviamo vite. Se c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, lo soccorriamo. Non ci sono colori e tenie e religioni. È la legge del mare. E quando salvi un bambino, in mare aperto, e lo stringi al petto, e scoppia a piangere. Il gigante mi scoppia a piangere davanti. Fermo, immobile, piange tutto il tempo che deve piangere. Poi, ricomincia dicendo che queste persone non dovrebbero partire, che in ogni caso in Italia l'accoglienza funziona male, con sprechi e gestioni dissennate. Poi torna a ribadire il punto che in mare, in mare, non esiste neanche considerare un'alternativa. Ogni vita è sacra. Se aiuta chi ha bisogno, stop. È questa frase che continua a tornare nelle sue parole. È più di un mantra mandato a memoria, è più di un ordine militare ripetuto per autoconvincersi. È un vero e proprio atto di devozione. Durante le operazioni di soccorso, bisogna fare assoluta attenzione a non trovarsi, mai, in mezzo alle due imbarcazioni. Puoi rimanere schiacciato in caso di collisione. Ho rischiato la vita una sola volta. C'era mare Forzaotto alle mie spalle, il barcone carico di persone. E un'onda di sette metri ha sollevato il nostro scafo e me l'ha tirata addosso. In mare non è tempo di pensare, agisce di impulso. Mi sono tuffato di lato con un colpo di reni che non credevo neanche io di possedere. Gli scafogli sono scontrati. Persone sono cadute in mare. Ho nuotato per recuperarne il maggior numero possibile. Arrientro alla missione, sono rimasto da solo sul molo a camminare, avanti e indietro. Avanti e indietro per delle ore, avanti e indietro. Ma dovevo levarmi di dosso il prima possibile, questa sensazione di morte sfiorata. Mi spiega che ogni volta che si giunge al punto di cui è partita la richiesta dei soccorsi, lo scenario è differente. Non esiste un recupero uguale all'altro. Troppe varianti. Le condizioni meteomarine, la composizione dell'equipaggio, se le persone si trovano sul barcone o su un gommone, il tipo di corrente che c'è in mare, che benzo sta soffiando, non esiste un recupero uguale all'altro. A volte il mare è quieto, loro sono quieti, e il trasbordo avviene abbastanza velocemente. A volte le persone si agitano così tanto che il barcone si rovescia davanti ai tuoi occhi. A volte arrivi e il barcone non c'è già più. E il mare è pieno di corpi che galleggiano, così tanti che non riesci neanche a contarli. Allora non bisogna perdere tempo. Bisogna agire di fretta il più velocemente possibile. Non esiste un protocollo. Puoi girare intorno a un gruppo di persone con una fune e provare a tirarle tutti quanti così, su, assieme. Se davanti a te stanno annegando tre persone e cinque metri più in là sta andando a fondo una madre con suo figlio, che fai? Dove vai? Chi salvi prima? I tre qua davanti o la madre con il neonato che stanno lì? La madre è giovanissima, il bambino è piccolissimo, sono lì a cinque metri. E qua davanti tre persone stanno annegando. Chi salvi prima se stanno andando a fondo tutti nello stesso momento. Dove vai? Che fare? Calcolare? La matematica? È tutto quello che puoi fare in queste circostanze. Tre e più di due. Tre vite sono una vita in più rispetto a due. E poi non dice più nessuna parola. Fuori dalla finestra del Lampedusa sta soffiando lo scirocco e io ho la netta sensazione di continuare a incontrare esseri umani che si portano dentro un enorme campusanto. Davide, grazie. Ma non solo grazie per questa cosa che hai fatto adesso. Grazie perché sono ormai quante stagioni che porta in giro l'Abisso? L'Abisso ha debutto nel 18 e ha però 210 repliche in giro. E io ti vorrei personalmente ringraziare per ognuna di queste repliche che hai fatto. Grazie davvero. Grazie. Io lo prendo e lo rimando ai protagonisti di questa storia perché sono loro le mani loro è il corpo che sta vivendo questo momento di storie gigantesca. Sì perché questo è uno spettacolo che tu è un testo che tu hai tratto diciamo in presa diretta in qualche modo dagli incontri che tu hai avuto veri con le persone che si occupano di questo argomento. Fra l'altro io credo che noi dobbiamo dire qualcosa siamo il sabato sera sul Rai 3 no? Il Covid è stata una grande emergenza e ci ha dato la sensazione che tutte le altre emergenze si siano come sospese ma si continua a fare i conti con questo fiume umano di disperati che continuano a cercare una speranza qua. Il Covid ci dà la possibilità di capire lo stato di necessità per la quale devi rimanere chiuso o hai determinati obblighi da seguire. Questo potremmo prenderlo quello che ci accade dentro di noi e moltiplicarlo considerando per esempio che in Libia esistono i lager e che i corpi degli esseri umani vengono straziati nella maniera più ignobile e poi per le donne una carneficina. Ecco. Davide, scusate ma sono rimasta totalmente senza parole è meraviglioso poter assistere e immagino anche per tutti quelli che ci stanno guardando a casa a un'interpretazione del genere e siamo felici perché questa tua interpretazione adesso andrà a legarsi con degli artisti che ci hanno raggiunto qua sul palco del Sistina. Sì, abbiamo proprio voluto Andrea che ci fosse una continuità perché come vedi i nostri tecnici adesso stanno in modo piuttosto febbrile stanno disponendo il palcoscenico perché a seguire questo tuo racconto c'è l'orchestra multietnica di Arezzo che forse tu conosci che è una realtà incredibile composta per larga parte da persone che vengono da altri mondi da altri luoghi del mondo rifugiati immigrati persone di ogni cultura persone di ogni cultura religione che fanno questo bellissimo progetto e che guarda caso ci dimostrano che anche l'unione fra linguaggi all'apparenza pure loro diversi musica teatro poesia l'incrocio fra diversità è possibile come è auspicabile l'incrocio fra diversità umane presunte diversità l'incrocio fra diversità umane che fanno